Io ho scelto di imboccare il cammino più aspero, il sentiero più oscuro, quello di cui tutti paventavano le insidie. Solo così non mi sono smarrito. Alla prossima Ho nuovamente combattuto il male con le se stesse armi. Altro sangue è stato versato e nuovi dolori si sono aggiunti a vecchie piaghe mai rimarginate. Per oggi sono ancora qui e la mia vita, per quanto difficile, continuerà. Alla prossima